ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della material energy compagnia di ulisse no io mi chiamo ulisse 1996 cos'è? 19 fa schifo guardate in alto sul nome c'è scritto zulisse 1900 perché in verità è una storia lunga e poi cambierò il nome appena possibile quindi non rompere perché? andiamo avanti allora siamo arrivati a un punto cieco racconta il perché Xander ma quale punto cieco c'è un sacco di cose allora allora cosa importante non abbiamo ancora finito l'acqua e se quello ci sono dubbi vero? ok quello vabbè ignoriamo ignoriamo allora stavamo pensando che esattamente ci serva davantina però a nostro parere visto che il drop rate nelle legendary bag è molto basso un per cento probabilmente in qualche modo ce la darà quindi quindi andiamo avanti con le quest magari più avanti la troveremo non è detto che devo finire subito quindi se qualcuno ve la dà veloce aspettate vedete ricompensati vero Xander? andiamo a sto cam... andiamo a... ok che facciamo oggi? allora dobbiamo avere un paio di quest nella hell on nightmares soprattutto quella da esplorare che io sapete dove è quel posto bedrock tomb 0 0 0 quindi wow e dobbiamo fare il shifting trog che sarebbe tipo cose belle nel senso che funziona come l'agrarian più o meno solo che noi useremo la minesham lo stesso modo e lo sai che cosa ho per te Ulisse? che cosa c'è? una cosa che ci ha dato apposta prima di questa missione dove sei? guarda ci ha dato apposta per andare lì oh la velocità della luce perfetto la useremo su di noi possiamo usarla su entrambi? o sbaglio? si è una splash infatti quando andiamo sotto ci tiriamo quella e schizziamo a mille blocchi da qui alla velocità di zoom va bene ok e che cosa dobbiamo prendere? dobbiamo fare C allora abbiamo detto il craftare oppure dicessamente dare? no l'idea mia era di mettere subito un query sulla zona lì del coso ok tu metti il query e nel fatto poi faccio il mining upgrade qua perchè tanto è facilissimo da fa e la domanda è Ulisse dove è il query? 1, 2, 3 l'ha a posto ah ok si è sempre lì 2 e 4 è vero che ne ho ah ne ce n'ha 2 e ce n'ha? dove lo vado a rubare un tesseract? rubalo? guarda che parte ok abbiamo fatto 4 di questi bisogna fare un item ok questo qua ok mi servirà un paio di questi ok dovrei avere se non sbaglio ragazzi i nostri pipe dove ho messo i pipe? c'è un sacco di pipe ma tu vuoi collegare la farm? no si si no no ho fatto ho fatto facendo le missioni ok fatto ragazzi adesso abbiamo tutta questa roba indietro sostanzialmente ci dice vabbè tutta questa roba ve la spiego in molto semplice in modo molto semplice ci dice fai tantissima cobblestone trasformale in gravel o in sand da quella sand e gravel tu ricavi i materiali bam semplice wow la scienza eh bello non c'è non c'è nulla con la scienza in teoria si c'entra con la scienza eh e ci dà anche il chemical journal eh journal che tipo boh oh perfetto nooo xander e poi ci dice tutto ci dice no ok nether brick mi ha detto come si decompone un nether brick auli si è parito il quarry eh sta andando nooo xander mi ha detto che nether brick si decompone in silicon e tungsten quindi è collegato e vabbè nether brick come faccio eh aspetta ma dove dove lo stai guardando scusami aspetta posso fare in questo modo posso fare nether brick si fanno ragazzi dentro ha una fornace si cuoce ok a vedere che stai facendo boh allora sostanzialmente guarda cosa mi ha dato anzi reward reward tu stesso ci dà il journal che ci dice guarda che forse quindi molto a caso puoi craftarti anche il tungsten ok allora vedi un po' tungsten in sintesi 200 hai visto? quindi io prenderei questi nether brick e metterei lì dentro ah dice che nether brick si sintetizza col tungsten quindi decomponendolo c'è la possibilità che esca vediamo quindi noi ci serve il tungsten e quindi eh ma quanto valorità c'è eh wow 15 per cento rarissimo tecnoteo un tenium pure ma non da niente quindi perciò di vendere uno soltanto mi sa per il mondo al 15 per cento di prendermi 4 ah ma guarda io sto mettendo altri dentro adesso guarda allora allora aspetta quelle nether giusto noi ci abbiamo il nether non mi ha dato nulla grande cosa mi sta dando niente mi sta dando perché perché? export basoliste no 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 non va niente xander non no 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 da un po' di 16 guarda si ma non mi ha dato 6 altre se ne butto ma da visto cosa ho fatto non me lo chiedere export ecco ah dietro la nedrax mettendo ma è pochissimo è uscito è pochissimo e lo so che è pochissimo il tungstenulist è il materiale pure esistente del mondo dopo non so cosa parliamoli tre ne abbiamo tre ne abbiamo però quello che dice lui è può darsi che dei brick ne esce di più apposta di fa fare i brick allora vabbè rimane infatti che abbiamo già fatto abbiamo già fatto xander ne stavano 64 nobile sono 86 se non sbaglio per fare la missione si sono 98 me ne servono tu sono plat 98 abbiamo un tungsteno vai butto il mezzo otto roba ho visto tutto si era che io trasformo l'altra nella quella lì che è cisellata bravo intanto butto nella tentazione google vai va buttato dentro tanto mai che abbiamo la nedrax a sufficienza nel ne ho visto altro tungsten uscire che sta uscendo ma no ma non solo quello possiamo mettere nel cuore nel nether sa quanta netherrack che c'è poi si tutto di netherrack quello a parte quel cuore che abbiamo messo adesso lì c'è c'è un mille modi per fare netherrack ok aspetta che sto facendo un sacco di netherrack quanto ne vuoi dammi il tempo vabbè comunque abbiamo fatto cioè questo serve fare la fissione ragazzi perché c'erano le nether star esatto ragazzi praticamente c'è una quest e che cacchio dice qua qualche successo ok niente vabbè io faccio un'altra plate in comunque giusto che ci sono forata rai fai st겠죠 segwan buffalo s corpor ma mi aspettare a quioi ok no ab welcoming studentesca è allora sedici dovrebbe essere sufficiente 32ru guanda quattro questi 00 tornessi non sono 98 maλo su 96 torca vacca 57 وس telti ma sta negativo a sta non minima idea basta 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 ok Fatto Abbiamo tutto necessario Ci dà 3 coin Ci dà 3 coin Wow Non saranno troppi Uuuuh Uuuuh Building the reactor Ok Ecco Allora ci dice La fissione nucleare Allora La fissione nucleare Eeeh Vabbè L'eratore nucleare A fissione Ok E' una storia larga Quindi non sappiamo dove sistemarla Vabbè Quindi dobbiamo scendere giù Eeeh Just below the station Eeeh Ah ok Vedi che c'è scritto E quindi non andrà a mano per il momento Cioè dobbiamo scendere manualmente Esatto Dobbiamo mettere un elevedore Ce l'abbiamo un elevedore Eeeh No no Ce l'ho da lui Ce l'ho da lui Dopo vedi Ci dice Possiamo sempre aggiungerne altri Oh Ce li dà proprio Simpatico Andiamo lì sotto Dai andiamo Eh non ne vogliamo manco fare Aspetta L'acqua ha messo Bravo Ok Andiamo 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 a esplorare questa nuova zona Ah comunque stiamo preparando ancora la seconda farm Perché ci serve E a proposito Dobbiamo fare un'altra cosa Xander dopo ricordatelo Cosa Gli dobbiamo prendere Dobbiamo levare i crate di Di coso lì Di 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 apatite Ah di apatite Perché dobbiamo fare un sacco Un sacco di roba buona Allora questo Cos'è questo blocco Luis Eh l'enderman Argilla Perché c'è dell'argilla Prendi l'enderman Ad avrò preso qualcosa Ok Qui c'è della dirt Ok Dobbiamo andare 31 metri Away E' quello Xander E' qui Credo sia qui Penso sia quello Xander Non quello Aspetta guarda le coordinate No Bu già questa qua Eh è lì su Dove manca lì su Dove manda Guarda c'è il Vedi c'è il foro Guarda Lì va messo l'elevator Eh sì Eh sì vabbè Deve metterlo dopo E come lo mettiamo L'elevator lì No dopo dopo Ce lo dà indietro comunque Non in caso Poi ci andiamo lì Qui dentro Deve mandare nell'autobus qua Ah è qui? Sì è qua Ok Oh guarda che bello Visited Clema Ok Elevator Che figata Che c'è qui Ulis Una farfalla Un disco Ulis Un disco Un disco Un disco Un k Prendiamolo E anche una trophy Bello Lì c'è una chest C'è una crafting C'è che cacchio è questo Un trading post Me lo spieghi Cosa serve sta cosa L'acqua Che credo sia una cascata Un bioma Un bel No C'è Ah whirling glass Vabbè crafting table Un trading post Vabbè villager Non ci sono villager Non so perché C'è una chest Ulis Sì però Che cacchio è sta roba Uh Che c'è? Dove vedere? Uh Bella questa spada Bella Non lo faccio anch'io Il quick server a che serve? A nulla Beh più o meno Se va nulla Non manca a me piace Sembra la spada di Cloud È meglio la mia Uh è vero Madonna la faccio Ad amanti Ad amantine Ad amantine Possiamo Eh no Eh no Eh no Purtroppo no Eh lo so Già ce l'ho pensato Ma purtroppo Ma to Abbiamo tutto uranio comunque Beh saliamo su nel frattempo No perché altro Non c'è bisogno di salire su Dobbiamo mettergli alle vede Ulis Eh sì per quello Per quello Eh ce li ho Aspetta Metti i blocchi Non ce li ho Ulisse Come ce li hai? No Butto giù Che cos'è là sopra dei scheletri? Eh Eh sì Ulisse Credo sia un po' impossibile Fa' questa cosa Eh Potrebbe essere un problema E se io metto l'acqua lì E salgo lì Guarda Guarda che provata Non penso ce la fai Di fare tutto il giro ogni volta Come no? Di fa sto giro Eh sì Provata Io ce l'ho l'elevator Io ce l'ho Ce l'ho io anche Ah ok È giusto C'è ragione Guarda che provata Mamma mia Ok Ora possiamo salire Vero? Però possiamo salire Ciao lì Se vediamo sopra Aspetta che c'è l'acqua qua Che mi sta dando fastidio Ma è toksander Ok Eccoci ragazzi Siamo tornati su Oi Fatti Piano sbagliato Ok abbiamo sbloccato la nuova zona Nuova dimensione Oh figo Ok possiamo lasciare questa roba E Ah voglio vedere quello da un k Come faccio a vedere quello da un k Giù Giustamente abbiamo Eh penso che dobbiamo portarlo giù In effetti Andiamo a vedere Ok C'è la carica No No La prendo Ok Prendo io La prendo C'è la qua Fatti è che lascio un attimo Questa altra roba Ok 1 e 2 Ma sai che come la spada è una mantina Possiamo usarla in qualche modo Possiamo Trasformarla Ok ho attaccato la cella E' tutto online Quando vuoi A te l'onore Aspetta che sto lasciando Uh abbiamo trovato anche un end Un ender core Perfetto Possiamo metterci sopra Più velocemente Le ender pearl Ottimo È vero Perfetto Abbiamo due Ne siamo un altro Ne serve Tra l'altro il terzo Abbiamo completato anche la quest Ma non è riuscito Ma non è riuscito No Di aspettare Appena che fanno anche delle mele Che sono a secco Proprio di mele Che altrimenti ne abbiamo mele Non abbiamo Non mi frega niente Andiamo Andiamo Allora scendi giù Ok Vai c'è la cella Eh ce l'è tu il disco Vedi il disco Ok Diamo un po' Ah Ah era questo Tu qui Ah Ti è sprecato figlio Grazie Non dov'è Gentile troppo Guarda non sarà Wow Ho usato l'energia di quello Che dovrei avere da questi cosi Sì in effetti Me la risparmiavo Quella energia nella cella Sinceramente Va bene Fatto sta che dobbiamo adesso farci Explosion Fatto sta che adesso noi salutiamo Perché questo video è tutto Ok A parte fatto che c'è l'explosion Va bene Per questo video è tutto E nel prossimo video Andremo a esplorare questa nuova zona Che dice che sta a mille metri away Esatto Sì bello Devo andarci per forza Eh Pedro of Tom Facciamo una gara Ok facciamo una gara dopo Perfetto E allora ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Come sempre passate al canale di Xander Qui sotto in descrizione Stessa cosa da Xander Il canale mio E trovate il link per le pagine Facebook Qui sotto Se non passate siete persone orrende Perché non cliccate sulle cose di Facebook Perché so che voi siete su Facebook ogni giorno Lo sappiamo Che passate le ore su Facebook Però non sulla pagina nostra Cliccate Mettiamo tutti gli aggiornamenti del canale su Facebook Anche Se volete sapere qualcosa Venite lì e trovate tutti gli aggiornamenti Esatto Più facile Invece di iscrivervi su Google Plus Perché nessuno usa Google Plus Mi dispiace Ciao ragazzi Ciao ragazzi E al prossimo video E al prossimo video